Innanzitutto per ricordare la storia della richiesta di applicazione del 116,3, perché il segretario Alfieri ha parlato della storia del 116 dal 2001 e poi ce n'è una anche all'interno di quest'aula e da lì vorrei partire perché qua si presenta un documento e il Partito Democratico ha presentato un documento dove dice attiviamo subito il tavolo, facciamo pressione a Roma perché questo avvenga, noi lo condividiamo e quant'altro. Se oggi noi arriviamo a fare una richiesta e a votare una richiesta di referendum in aula è proprio perché il 24 di febbraio dello scorso anno è stato approvato in aula un ordine del giorno impegnando la Giunta e il Presidente ad andare a Roma, erano iniziate le riforme costituzionali e tra le varie righe si legge rilanciare il processo di federalismo differenziato ampliando lo spettro delle materie e prevedere livelli di virtuosità come residuo fiscale, costi standard, livello del PIL, oltre quali l'accesso di particolari forme di autonomia previste al 116 sia automatico che l'autonomia finanziaria e fiscale prevista al 119. La risposta del Governo è stata che avrebbe asfaltato le regioni, è stata una riforma al titolo quinto che diminuisce le autonomie e quindi pensare di rifare adesso una cosa, dire rifacciamo un documento che abbiamo fatto un anno fa, chiediamo subito l'attivazione del tavolo, sa un po' di presa in giro, soprattutto perché oltre a questo documento c'era stata una conferenza delle regioni a Roma dove erano stati convocati tutti i consigli regionali, c'erano presenti i membri di ogni gruppo politico all'interno dei vari consigli, c'erano i presidenti delle regioni, i presidenti dei consigli regionali, si parlava di riforme costituzionali e di maggiore autonomia e nessuno, dico nessuno, del Governo, nessuno dei relatori di maggioranza e minoranza di riforme costituzionali si è presentato quella giornata, questo era il rispetto che lo Stato aveva nei confronti delle regioni, una cosa organizzata dalla conferenza delle regioni non dal Movimento 5 Stelle, ma c'erano anche i presidenti delle regioni e anche del PD. Quindi parliamo proprio di questo, sul fatto poi che sta a cuore il Partito Democratico, stanno a cuore le autonomie locali, oltre a questa cosa dove praticamente non siamo stati assolutamente rispettati come consiglio regionale e come consigli regionali. Vorrei ricordare che ad esempio tutta l'operazione degli 80 euro non è più segreto ormai, o è segreto di Pulcinella, è stata finanziata con i tagli e trasferimenti ai comuni. Se voi che avete numerosi sindaci in Regione Lombardia saprete che o si lamentano solo con noi quando li incontriamo oppure sono imbestialiti da questi tagli. E questa è davvero la nuova frontiera del Governo Renzi a cui noi con un documentino votato dal Consiglio vogliamo andare a chiedere una maggiore autonomia e un rispetto di Regione Lombardia. Perché io chiaramente guardo con attenzione anche a quello che voi dite, però oggi non posso accettarlo perché oggi abbiamo un governo che sta andando in senso opposto, abbiamo dei documenti che abbiamo già votato all'interno di questo Consiglio, abbiamo una trasferta che ci siamo fatti a Roma non senza risultati, ottenendo risultati opposti. Forse allora a questo punto nasce un'esigenza di sentire anche i cittadini cosa ne pensano. E allora in forza anche di un voto popolare se sarà positivo si può con maggior forza dire che non è un'idea del Movimento 5 Stelle della Lega e del Partito Democratico ma è un'idea chiara dei cittadini lombardi e quindi i lombardi che sono 10 milioni su 60 pretendono che si intraprenda quella strada. Mi pare una posizione sostenibile, ripeto. Abbiamo fatto dei percorsi partendo da quest'aula, non sono stati rispettati, consultiamo i cittadini, non c'è nulla di male nel consultare i cittadini. È la prima volta tra l'altro che sento parlare di spreco quando si fa un referendum, nella mia vita ne ho visti differenti e non ho mai sentito lamentare anche quando si faceva acqua pubblica perché anche quello dell'acqua pubblica era una banalità. E quindi anche questa questione che diventano gli sprechi fare un referendum soprattutto se vengono a gruppi politici che di sprechi ne hanno fatti. Ne hanno fatti in passato, le belletti su tutti i giornali non sto neanche qua a annunciarli e non me ne frega neanche nulla. Poi sentiamo parlare di credibilità, certo io non posso farmi la morale a credibilità e torno ancora, l'avremmo ripetuto 50 volte in quest'aula, ma è fondamentale da chi promette in campagna elettorale di dimezzarsi lo stipendio e poi fa da stampella a Maroni quando devono decidere di tagliare, sì però tagliamo un po' meno e quindi invece dei 3.500 euro netti senza rimborso si tiene 8.500, 9.000, 8.200. Questa è una presa in giro, quindi non accetto lezioni da chi va in giro e racconta queste cose perché lì si tradisce l'elettorato, si era dato un messaggio chiaro e qua dentro si fa tutt'altro. E allora in quel caso con Maroni si votano le leggi, quando tocca il mio portafoglio con Maroni le voto le leggi, quando invece devo far decidere i cittadini nascono questioni morali, facciamo un documento interno al Consiglio. Per me è davvero una questione, lo ripeto, a me non interessa se stati attaccati in tutti i modi in questi giorni perché chiaramente la stampa non è mai schierata, non è mai schierata. È stata fatta una conferenza stampa giovedì, noi eravamo presenti e da lì poi è partito tutto un attacco frontale nei confronti del Movimento 5 Stelle, nei confronti di questi 30 milioni, la stampella politica, quando ci ricordiamo cosa avete votato con Ale, quando ci ricordiamo tante altre situazioni, sentirmi fare la morale sulle riforme costituzionali, quando in Parlamento di notte con le minoranze fuori si votano dalle riforme costituzionali e Renzi la mattina dopo se la ride, questo è il rispetto che si hanno degli organismi, consigli regionali, parlamenti. E allora le morali no, grazie. Possiamo avere visioni politiche differenti, idee differenti su come utilizzare i soldi o come essere rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, perché è legittimo che voi pensiate che siete rappresentanti, avete il voto popolare e quindi potete fare tutto quello che vi pare, non è un problema in quello che ci è consentito in questo Consiglio. Noi abbiamo una visione diversa, che più possibile consultiamo i cittadini, meglio è, e non vuol dire abdicare al nostro ruolo di consiglieri regionali, ma vuol dire dare più valore alla politica, portare maggiore democrazia e coinvolgere i territori nelle scelte. Questa è una nostra posizione politica. Quindi quando è stato chiesto, quando ci è stato chiesto il referendum noi abbiamo posto chiaramente delle condizioni chiare, il quesito. A noi lo statuto speciale si era partiti da lì a maggio, giugno, adesso non mi ricordo neanche il periodo precisamente, si era partito lo statuto speciale e chiaramente noi non potevamo essere d'accordo, perché non ci andava di prendere in giro gli elettori su una cosa che era incostituzionale, che a Roma avrebbero bocciato per poi farne sì la bandierina ideologica di Roma, cattiva ladrona, che ci bacchetta e ci cancella il referendum sulle autonomie. Però siccome noi in quest'Aula non abbiamo mai votato contro un referendum, mai, perché è una scelta politica che noi abbiamo fatto e ben precisa è del fondamento del nostro movimento, abbiamo detto noi possiamo anche votare un referendum, però il quesito deve essere serio, non deve andare contro la Costituzione, anzi la deve rispettare. Siamo andati a riprenderci quel comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione che già di per sé prevede il federalismo differenziato. Era stato, ripeto, approvato un documento un anno fa in questo Consiglio, il Governo ha deciso di andare in tutt'altra direzione e a questo punto mi sembra una cosa naturale, se non quasi banale, sentire i cittadini farsi dare un mandato popolare molto più ampio per a Roma dire questo è il percorso che noi vogliamo fare. Quindi non stiamo parlando di bandiere politiche, anzi quando si partecipa per votare un referendum e far parlare i cittadini le bandiere politiche le si possono far cadere. Quando se il Partito Democratico avesse partecipato con noi votava in quest'Aula e siccome noi non abbiamo il peso mediatico che voi avete non sarebbe stato il referendum della Lega, come i giornali amano far passare in questo periodo, ma sarebbe stato il referendum del Consiglio regionale che chiedeva maggior rispetto, maggiore autonomia e chiedeva ai cittadini prima di andare a pretenderlo in altre sedi. Quindi secondo me davvero tutte le polemiche che ci sono state sono completamente fuorvianti, assurde, perché ripeto non l'ho mai visto nella mia seppur breve esperienza tante polemiche sui costi di un referendum, detto poi che dimezzeremo le spese, arrivare a definire gli sprechi della democrazia un referendum, probabilmente noi abbiamo una visione completamente diversa, allora a questo ci adeguiamo, però ci piacerebbe che anche qua i giornali invece di fare il tappetino di qualche partito particolare o di qualche eletto particolare parlasse seriamente di quello che è successo in questo Consiglio nell'ultimo anno su questo tema e parlasse seriamente di che cosa si va a fare. Il quesito può essere ampio, chiuso, non è un problema. Però se tutti avessero partecipato alla costruzione, ci sono stati due mesi di tavolo di lavoro, se tutti avessero partecipato alla costruzione di un quesito, allora forse si arrivava oggi e non si vendeva il referendum leghista, ma si vendeva un referendum per chiedere ai cittadini cosa hanno intenzione di fare. Tant'è che tra l'altro si è parlato del Movimento 5 Stelle spaccato che era una delle tante assurdità durante questo periodo, non si è parlato dei mal di pancia all'interno degli altri partiti. Io ho parlato con diversi, con alcuni consiglieri del Partito Democratico che oggi per spirito di partito voteranno contro a questo referendum. No, 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 non è un problema. Assolutamente non è necessario. Lo stesso consigliere Bruni quando abbiamo in gruppo di lavoro, è stata scartata l'ipotesi dello statuto speciale, aveva detto vabbè qua allora cambia tutto, forse vale la pena. Poi è stato in riunione di gruppo e è stata presa una scelta politica, ma quando era passato in gruppo di lavoro? Assolutamente, non c'è nessun tipo di problema, certo che lo dico quando c'è lui. Però lui aveva detto la questione allora cambia perché non è più la bandierina del nostro tutto speciale ma è una cosa che è percorribile. Poi sono state prese scelte politiche, ripeto, per me non è un problema, però sono qua a difendere una scelta del nostro gruppo che è una scelta chiara, lineare e trasparente, che è sempre stata portata avanti secondo i principi che il movimento che rappresento porta avanti dall'inizio e quindi non ho nulla di cui vergognarmi, non ho accettato nessun tipo di scambio, noi non abbiamo accettato nessun tipo di scambio, chiediamo semplicemente di dare la parola ai cittadini e di darci un'indicazione chiara su un tema dove a Roma pare che non ci sentano. Grazie.